Tempo di bilanci per l'amministrazione provinciale guidata dal Presidente De Mondo Cirielli che in giornata a Palazzo Sant'Agostino ha tenuto il tradizionale consuntivo di fine anno tracciando priorità e risultati centrati in un anno di governo provinciale. Cirielli rivolgendosi alla folta platea del Salone Bottiglieri ha augurato per l'anno nuovo una rinascita economica per tutto il territorio provinciale afflitto da problematiche quali la mancanza di lavoro ha detto Cirielli. L'occasione del tradizionale scambio di auguri è servita a Cirielli per sottolineare l'importanza della riapertura dell'aeroporto di Ponte Cagnano, un successo che suggella il buon operato dell'amministrazione, ha detto Cirielli, il quale ha auspicato che al più presto si accelerino i passi per l'allungamento necessario dello scalo.